Procuratore, lei oggi fa un appello ai cittadini di Giulianova, quindi secondo lei c'è omertà? Non ho detto che c'è omertà, io ho detto semplicemente che quando ci si indigna per un fatto occluento poi a questa indignazione bisognerebbe essere conseguenti e quindi a questa indignazione dovrebbe conseguire una collaborazione di cittadini per la dinamica dei fatti avvenuti in pieno centro, in un'ora centrale alla presenza di balconi, finestre, bar e che si è prolungata per lungo tempo, alla presenza di una bambina che piangeva e che strillava, non è pensabile che nessuno abbia visto o sentito niente. Quindi l'appello alla collaborazione ha collaborato con il rispetto e la stima che ho verso la popolazione di Giulianova. Posso confermare che la bambina era nella macchina ed ha assistito purtroppo a questa vicenda terribile in cui il proprio padre veniva accoltellato al cuore da parte dell'arrestato. Che cosa abbia detto la bambina o non detto non ve lo posso dire. Io ho atteso oggi solamente perché solo oggi avevamo i risultati dell'esame medico-legale. Solo oggi c'è stata la discovery perché stamattina c'è stata la convalida della decisione dell'arresto da parte del GIP e quindi tutti gli atti sono stati depositati, quindi vengono meno le esigenze di riservatezza. E inoltre dovevamo approfondire l'eventuale presenza o meno di altre persone su cui stiamo lavorando. Oltre alle dichiarazioni rilasciate da Di Silvestre, i fatti che in qualche maniera sono stati inizialmente ricostruiti che avrebbe appunto il Cialino prima aggredito il Di Silvestre? C'è attendibilità su questo? Noi abbiamo perplessità naturalmente sulla dinamica che ci è stata fornita dalla persona arrestata. E quindi è per questo motivo che naturalmente abbiamo richiesto la convalida dell'arresto. proprio perché riteniamo che le dichiarazioni dell'arrestato non appaiono al nostro viso credibili. Finora gli unici motivi che sono emersi sono relativi a un contrasto per ragioni stradali. Altre situazioni, al di là di queste pseudo voci, noi non abbiamo riscontri concreti.